Musica Sarà possibile avere un'armonizzazione dei prezzi dei prodotti di prima necessità in Europa? In una prospettiva di difesa dei consumatori non è una buona idea applicare dei prezzi armonizzati in tutta l'Unione Europea. Le condizioni economiche non sono le stesse in tutti i paesi. Per esempio il reddito medio mensile per la famiglia in Francia è di 2.800 euro in Bulgaria di 350 euro. Sarebbe veramente ingiusto per i bulgari e tutti coloro che sono al di sotto della media applicare prezzi armonizzati. La vera soluzione è dare delle risorse alle autorità garanti del mercato perché combattono i monopoli e la creazione dei cartelli sui prezzi. Per sottoporci le vostre domande l'appuntamento è sul nostro sito web. Grazie a tutti.